... ... ... ... ... Chiudi sta cazzo di seranda, forse non fa scherzi, sbrigate! Veloce, non fa scherzi! Chiudi! ... ... Brava! Rimpi sta cosa, sbrigate! Ma ladro, temo che qui non troverai ciò per cui sei venuto, o almeno non nella forma che tu credi... Non me devi far cazzare, sbrigate! E poi sei così sicuro di ciò che in effetti sei venuto a cercare! I sordi! Pagli i sordi, dai! Mi duele! Mi duele, giovane ladro! Ma qui, ahimè, non ne troverai, o almeno non nella forma che tu credi! ... ... ... ... ... ... va, sbrigale, forza, metti qua, non fa cazzate, non ti muovi, stassi qua, fermo, non respira. Come cazzo funziona? Come cazzo funziona sta cosa, dai? Malatro, pensavo che mi avessi ascoltato quando ebbe a dirti che ahimè qui non troverai soldi, almeno non... Almeno non ho una forma che tu crei, ho capito, te devo menare i mortacci. Va bene, va bene, ti mostrerò, ti mostrerò, ma il fatto che tu segui attentamente, te ne prego, prima un mio piccolo ragionamento. Vai. Bene. Dov'è io? Ladro, tu eri fuori da questo luogo e ora ne sei dentro, è corretto? Sì. Concorderai con me quindi nel dire che il fuori e il dentro siano due luoghi diversi? Concordo. Bene. E se sono due luoghi diversi, non vuol dire che entrambi rispondono alle stesse leggi. Mi convieni? Mi convengo, eh. Ottimo. Siamo sulla buona strada. Dunque, ascoltami attentamente. Ora, mio caro ladro, se il fuori non è il dentro, e se il fuori e il dentro non seguono le stesse leggi, sarà anche corretto dire che se nel fuori ogni cosa è tangibile e diversa, nel dentro potrebbe non essere così, o no? Beh. E se io ti dicessi, caro ladro, che questo in cui ora tu ed io ci troviamo non sia un hypermarket, non sia un luogo, ma in effetti un non luogo? In dove cazzo stiamo allora? Ah, domandi bene. Bravo. Stiamo nell'iperuranio. Iperi che? Uranio. Vabbè, dammi i soldi e me ne vado, dai forse. Ma mio ormai affezionatissimo ladro, torna a dire che qui stiamo nell'iperuranio. Dei soldi qui non troverai altro che l'idea. Solo idee troverai qui. E' qui che dimorano le pure idee di tutte le cose. E' qui che il demiurgo prende le idee dagli scaffali e le plasma nella materia, creando le cose. Affinché l'uomo di là possa goderle. E chi sarebbe sto demiurgo? Ma io che c'è stato quasi a credere. Forza su, dammi sti cazzo di soldi prima che finisci. Ma da bene ladro. Fin quando sei qui dentro tu non esisti. Qui dentro non sei altro che l'idea di quello che sei lì fuori. Credi di poter esistere senza l'idea di te. Adesso addirittura non esiste. Sì, addirittura, esatto. Dai, non essere così. Ricordi, oh ladro, quella sensazione che provavi ogni tanto da bambino. Quando tutto sembrava perfettamente al proprio posto. Quando non c'era nulla che non andasse. E da tanto che non l'ha proprio quella sensazione, giusto? E mio povero ladro, sai immaginarne il perché? Perché tu hai preso l'idea di quella sensazione, l'hai rimessa a posto. E adesso di fuori non esiste più. Potrei fare la stessa cosa con l'idea di te. Ma io volevo soltanto fare una rapina. Entravo e ti dicevo questa è una rapina, ti metavi i soldi o me l'annavo? Non mi sta a dire che manca esisto. Ma sai che ci apri sta serranda, ti prego, mamma andrà via. Ma come volevo farla? Tu l'ha detto al primo corpo è il più semplice. Dopodiché è tutta in discesa. Qu'era cosa che faccio? Sempre parlare con clienti. Qui vendiamo, non parliamo. Ascara nello è che cattacar carini. E non ho capito, non ho capito. Ma la sentra ascara non è che cattacar carini la ria non è? La mai mochata carini è che cattacar carini. La sentra ascara... Ascara ne cattacar carini è che cattacar carini? Amai, amai, amai... Grazie a tutti.